ehi vedi cazzo riesce a raddrizzarla poi la carica va via io non riesco a entrare col lì lui riesce a dargli il colpo poi la raddrizza la pesa e va su dritto io non riesco ho imparato a scendere cazzo ha imparato a scendere senza mettere i piedi via oh non c'è verso io non riesco non riesco è andato giù a fermo non riesco non riesco non riesco era indietro basta devo riposare bravo ritenta sarei più fortunato testa che cazzo per meterni lì dai pietro dietro è andato sulla scorta ma prima è andato sulla scorta prima è andato sulla scorta dopo il mortello come cazzo fare io non so io non so come cazzo fa ci sei già preoccupato lì è l'unico che c'è mai sopra il grito dove soltanto dagli suoi prova anche tu adesso a fare questa questa l'hai già fatta ma va perché se no come hai fatto prima ma solo ti metti i centrali qua scommettiamo che tu arrivi scommettiamo che tu arrivi e gli altri no allora loro sì io no ma cosa rompi qua è terra che vuoi rompere cioè non ci arrivi ti fermi cioè non è che c'è il sassio oggi è giornata delle manovre oggi oggi è giornata delle manovre ecco adesso è una precisa guarda che scivoli su quella lì Pietro dai che scivola io prima di provarla a farla così l'ho provata dritta se la puoi saltare sì che per giocare devi seguire per assaggiarla io l'ho assaggiata dritta via